Benvenuti a questo servizio speciale di Medical Live Magazine, l'informazione scientifica che corre sulla rete direttamente dall'ottavo focus reumatologico di Ragusa, realizzato da A.V. Eventi e Formazione è voluto dal dottor Bentivegna. Parliamo del ruolo dell'inflammasoma per quanto riguarda l'artrite da amico cristalli e lo facciamo con il dottor Sebastiano Tropea che torna a trovarci per il pubblico di Medical Live e lo ringraziamo. Dunque cerchiamo di abbassare la lente di ingrandimento rispetto al ruolo dell'inflammasoma. Diciamo che l'inflammasoma è una piattaforma proteica che è stimolata dai cristalli appunto quando c'è questo squilibrio dismetabolico che porta alla produzione appunto dei microcristalli che innesca tutto il processo infiammatorio. Perché questo argomento dell'inflammasoma? Perché siamo abituati che l'artrite da microcristalli siamo abituati ad individuarla clinicamente, diciamo così, laboratoristicamente, ecograficamente quindi con l'imaging in maniera molto semplice e su questo si è sviluppate le terapie fino ad oggi attuate. Andando invece più in profondità, cioè andando a vedere che questo innesco dell'inflammasoma su quelle che sono poi la caduta, l'innesco delle interleuchine 1, l'interleuchina 18 in modo particolare, poi di TNF, interleuchina 6, ha consentito di aumentare quello che sono gli studi per quanto riguarda questo tipo di farmaci e quindi ad avere una sorta di precisione maggiore su quello che è il trattamento di queste patologie. Ecco, quindi c'è anche in questo caso un argomentario ben specifico, dottor Tropea, in termini di qualità di vita che cosa succede al paziente? In termini di qualità di vita siamo nelle condizioni di rendere la vita più semplice al paziente perché soprattutto quando si va incontro a tre episodi almeno di artrite acuta da microcristalli in modo particolare, l'innesco con appunto dei farmaci biotecnologici quali l'anti-interleuchina 1, l'1-beta e oggi si stanno sviluppando sempre più farmaci che agiscono sia sull'interleuchina 1, l'1-beta ma anche su quelle che è l'innesco da parte dell'inflamosoma, quindi delle caspasi, quindi dei farmaci anticaspasi e cose di questo genere. Facciamo un passo indietro, dottor Tropea, e chiaramente mi permetto di utilizzare la sua grande professionalità anche in quello scenario. Ruolo dell'imaging, come può essere utile in questo caso? Ruolo dell'imaging, devo dire che nelle fasi sia acute sia anche nelle fasi croniche ci aiuta molto perché ci sono delle caratteristiche per esempio ecografiche importanti per esempio quali il doppio contorno di queste articolazioni, l'individuazione tante volte di microcristalli che quindi ci mette nelle condizioni di valutare sia l'aspetto acuto ma anche l'efficacia della terapia e poi l'individuazione e la misurazione di quelli che sono i tofi gottosi. In passato abbiamo svolto delle indagini ecografiche anche per quanto riguardava l'efficacia dei farmaci andando a misurare appunto la riduzione del tofo gottoso e quindi avere realmente contezza non solo diciamo così di laboratorio ma anche di imaging di quello che era successo all'interno di queste articolazioni. Dottore Tropea per chiudere passiamo su un argomento più generale la reumatologia oggi tra nuove possibilità di cura e soprattutto con un diverso coinvolgimento del paziente lei normalmente la sua pratica clinica da cosa comincia e qual è il suo approccio? Il mio approccio innanzitutto è quello di parlare tanto con il paziente perché io dico sempre sostengo che il paziente indirizza veramente verso la diagnosi perché facendo una buona anamnesi e soprattutto visitando il paziente abbiamo già possibilità di individuare e cominciare ad avere delle ipotesi diagnostiche importanti. Ritornando al discorso delle artriti da microcristalli abbiamo una clinica molto evidente ecco perché tante volte non si è approfondito appunto dal punto di vista dei farmaci. Stesso discorso vale per le artrosi e per le artriti. Quello che è importante è poi fare sì di fare delle diagnosi precoci il più possibile per quanto riguarda tutte le patologie reumatiche essendo delle patologie autoimmuni questo ci mette in condizione di poter stabilire un treat to target con il paziente dove se si interviene precocemente si ha possibilità di avere delle risposte terapeutiche importanti o in ogni caso poi ottenere quelle che sono il più basso grado di malattia delle varie patologie. Grazie Ottor Tropea per aver condiviso con noi il suo tempo. Abbiamo realizzato questa intervista al dottore Sebastiano Tropea nell'ambito dell'ottavo focus reumatologico organizzato da Vie, Venti e Formazione e voluto dal dottor Bentivegna. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi per l'attenzione.